Il regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori e la seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati e successivamente sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Comunico altresì che l'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico. L'ordine del giorno reca l'audizione del direttore del Tg3, Bianca Berlinguer, che anche a nome dei colleghi ringrazio per il racconto e l'invito della Commissione. La dottoressa Berlinguer riferirà sullo scambio di regolamento predisposto dall'Agicom in materia di tutela del pluralismo di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazioni nei periodi non elettorali. La Commissione è inoltre interessata a conoscere le valutazioni del direttore sul progetto di riposizionamento dell'offerta informativa della RAI nel nuovo mercato digitale, elaborato dal direttore generale e illustrato alla Commissione nella seduta dello scorso 23 settembre. Ho quindi la parola alla dottoressa Berlinguer, con riserva per me e per i colleghi di rivolgere al termine del suo intervento domande e richiesta di chiarimenti. Grazie. Io avevo preparato, perché così mi era stato chiesto, una relazione soprattutto sull'estensione, questa proposta, diciamo così la dico in termini semplici, di estendere la par condicio, il regolamento della par condicio, che peraltro c'è già un regolamento, come sapete, in vigore con controllo della G.com, a tutto l'anno. Quindi se siete d'accordo, lì avevo preparato una relazione scritta, leggerai questa relazione e poi naturalmente mi farete tutte le domande che riterete opportune su tutte le varie questioni. Signor Presidente, signori deputati e senatori, innanzitutto voglio ringraziarvi per avermi dato la possibilità, insieme con gli altri direttori della RAI, di illustrare il mio punto di vista su alcuni temi fondamentali, su quello che è e che auspicabilmente dovrà essere il servizio pubblico a radio televisivo negli anni futuri, in una situazione di mercato che sicuramente non è più la stessa rispetto a quella che abbiamo conosciuto e che sempre meno lo sarà. Siamo qui per discutere anche di pluralismo nel periodo non elettorale sulla base dello schema di regolamento proposto dalla G.com. La cosiddetta par condicio agisce in due sensi, come obbligo di dare visibilità a tutte le forze politiche che ne abbiano diritto, secondo i criteri individuati dalla Commissione di Vigilanza e dalla G.com, come misura di ripartizione degli spazi tra le forze politiche in relazione alla loro rappresentatività. Tutto questo prescindendo dalla qualità dell'informazione che si produce e anche dal vantaggio che le forze interessate ne ricavano. Le regole sono necessarie durante il periodo elettorale per impedire gli abusi, cioè la sovraesposizione di alcuni soggetti a danno di altri o la completa cancellazione di soggetti meno forti o meno rappresentativi e quindi per evitare che l'informazione televisiva contribuisca ad alterare l'equilibrio della competizione e le pari opportunità di partenza tra le diverse formazioni. E tuttavia sappiamo che un'applicazione rigida della par condicio nelle ultime tornate elettorali delle regole sono state estremamente dettagliate, con controlli e obblighi di riequilibrio a scadenza addirittura settimanale, produce a volte risultati paradossali, come la messa in onda di servizi completamente slegati da una logica informativa a puro scopo di risarcimento per equilibrare gli spazi o per dare voce alle forze minori, o come la messa in onda per lo stesso motivo di servizi che sono soltanto la sommatoria di voci riportate casualmente e proposte senza un ragionevole filo conduttore. Quanto sia utile questa prassi agli stessi soggetti interessati è alquanto dubbio. Quanto sia sgradita ai telespettatori credo sarebbe facilmente verificabile. Faccio questa premessa per dire che regole molto stringenti in periodo elettorale possono essere giustificate pur sapendo che finiscono col collidere con l'esigenza di un'informazione chiara ed efficace e per giunta non sempre raggiungono l'obiettivo per il quale sono state pensate. Non sarebbero giustificate ed anzi sarebbero molto dannose per l'informazione al di fuori di questi periodi dove peraltro, è bene ricordarlo, non domina l'anarchia ma vigila comunque sempre la Gcom che segnala gli squilibri nel medio e lungo periodo e obbliga le compensazioni. Oltre che vigila, io questo lo voglio ricordare e non voglio che sia sottovalutato, il senso di responsabilità dei direttori che come sapete rispondono di tutto quanto accade nei loro telegiornali anche penalmente. In questo modo è stato finora possibile per i telegiornali conciliare la tutela del pluralismo con l'esigenza di un'informazione che rispettando i diversi orientamenti politici e culturali diavoce a tutti i soggetti rappresenti correttamente la complessità e l'articolazione della discussione pubblica, approfondisca e offre ai telespettatori una lettura corretta dei fatti. Questo certamente poi non ha evitato errori ma nella sostanza ha consentito un'informazione sufficientemente equilibrata. Il criterio seguito negli ultimi anni dal Tg3 è stato appunto questo, abolire il cosiddetto pastone, cioè il servizio politico nel quale compagnano i sonori di tutti i gruppi secondo un bilanciamento che a volte grottescamente prescinde dalla necessità di informare e immaginare invece una pagina politica che spieghi e approfondisca sentendo le voci di chi in quel momento è al centro di un'iniziativa o di una polemica di attualità. Il tentativo che abbiamo fatto è stato quello di cambiare lo stile e il linguaggio dell'informazione, evitando di dare voci che prescindano dal racconto della giornata politica e comunque proposte non solo per ragioni di bilanciamento e cercando di dare invece solo le risposte raccolte dai giornalisti del Tg3 a precise domande. È chiaro che questo modo di procedere richiene maggiore fatica da parte dei giornalisti ma è altrettanto evidente quanto se ne giovi la chiarezza e l'efficacia della comunicazione dal punto di vista dei protagonisti politici oltre che dei telespettatori e io credo che anche per questa scelta di linguaggio e di racconto il Tg3 abbia mantenuto una sua precisa identità nel panorama dell'informazione televisiva. Seguendo questa impostazione è evidente che l'equilibrio non può essere considerato in modo rigido giorno per giorno, settimana per settimana ma su tempi più lunghi che consentono di bilanciare lo spazio dato a tutti senza svilire il racconto politico quotidiano. Faccio un esempio semplicissimo. Se oggi mandi in onda una lunga intervista a un esponente della maggioranza ne farò una altrettanto lunga ad un esponente dell'opposizione ma non necessariamente lo stesso giorno o la stessa settimana se non ci sono motivi che la rendano interessante e urgente. E anche l'articolazione all'interno dei due schieramenti tra diversi gruppi di maggioranza e diversi gruppi di opposizione dovrà essere rispettata in un periodo di tempo congruo ma non certo in un'affannosa contabilità quotidiana. A questo principio abbiamo sempre cercato di attenerci correggendo gli inevitabili errori nelle modalità e nei tempi più rapidi possibili. Il nodo essenziale, insisto, è il linguaggio dell'informazione politica. Più lo si ingabbia dentro regole formali e cronometriche più perde di efficacia e di senso. E questo vale soprattutto nella fase attuale nella quale la dialettica classica maggioranza opposizione ha assunto dinamiche del tutto nuove. Basti pensare alla diversità di atteggiamento fra due delle forze che si collocano all'opposizione, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, e ancora di più al ruolo di contestazione interna svolto da alcune componenti del partito del Presidente del Consiglio. In altre parole, quale astratto criterio quantitativo poteva regolare l'informazione intorno all'articolo 18 che ha visto un settore del PD dissociarsi dalle scelte del Governo e come sarebbe stato possibile compensare a tamburo battente lo spazio doverosamente assegnato al leader del Movimento 5 Stelle durante la tre giorni del Circo Massimo e subito dopo la sua visita a Genova? La scelta di fondo alla quale un'informazione televisiva deve ispirarsi non è semplicemente di adesione formale ad un principio astratto di servizio pubblico, ma è di altra natura. La scelta è quella di garantire una gestione dell'informazione che assicurando gli equilibri tra le forze politiche rispetti l'esigenza di informare in modo completo, approfondito e innovativo. È fondamentale, d'altra parte, tenere conto del quadro generale del sistema dei media, al cui interno opera anche l'informazione televisiva e il quadro è quello di un mercato altissimamente competitivo e largamente privo di regole, dove si muovono con sempre maggiore agilità e spregiudicatezza soggetti vecchi e nuovi che non sono tenuti a rispottare vincoli stringenti e che risultano spesso incontrollabili e sottratti a qualunque autorità terza, come avviene spesso per tutta l'informazione che transita su Internet. Costringere i telegiornali a un surplus di informazione politica istituzionalizzata, anche in periodi non elettorali, rischia di portare a un loro ulteriore irrigidimento a solo vantaggio di chi ha meno vincoli o nessun vincolo e questo è un rischio che francamente molto mi preoccupa. Prima di chiudere due parole sul Tg3, veramente due, ho quasi finito. Per quanto riguarda il Tg da me diretto vorrei dire che la nostra preoccupazione è stata sempre quella di garantire un'offerta editoriale diversa da quella degli altri telegiornali, privilegiando l'attenzione per i soggetti più deboli, per i diritti negati, dando voce a chi non ha rappresentanza politica, assumendo un punto di vista che dia conto il più possibile della esistenza reale delle persone e della loro quotidiana fatica del vivere. Grazie per la relazione. Intervene il primo, Pisicchio. Prego. Sì, la ringrazio Presidente, gentile direttora, posso dire così, non vorrei utilizzare delle espressioni improprie. Meglio direttora di direttrice, sicuramente. Infatti ho utilizzato questo termine in questo senso. E anche gentili colleghi che rappresentate, devo dire in modo assolutamente positivo la testata. Io devo intanto esprimere un ringraziamento per la vostra presenza e per le cose dette dalla dottoressa Berlinguer. Peraltro, credo che non possa essere rinvenuta nessuna traccia di sentimento piageristico, se dico che va dato atto a questa testata di aver sempre, tradizionalmente, rifugito un po' quel sotto di mainstream dell'informazione calderone, aver fatto una scelta molto interessante da un punto di vista del ricevente, di chi deve cogliere il senso delle cose. Sotto questo profilo, proprio l'informazione, credo, rappresenti lo stigma, l'orma, il tratto di stile di questa testata. Quindi esprimo una considerazione che credo possano anche condividere i miei colleghi. Vado subito al punto. Sulla questione della parcondigio mi pare di poter condividere l'impostazione della dottoressa Berlinguer, della direttora, perché è evidente... È riferito a me questo ringraziamento? C'è molta insuberanza, quest'oggi allocutoria, un'insuberanza allocutoria che i nostri microfoni si poi peritano di trasmettere a tutti gli astanti. Soprattutto con riferimento alla difficoltà, dicevo, di costruire una cronometria della presenza della politica nell'informazione. Dunque il distillare gocce o minuti o secondi di presenza diventa sempre, è un'operazione sicuramente molto interessante da un punto di vista dell'osservatorio di Pavia, ma diventa molto complicata nella gestione. Per cui io credo che il giudizio sempre e comunque debba essere dato nella considerazione del senso complessivo, dell'orientamento complessivo verso il quale si muove l'informazione stessa. Quindi la modalità attraverso la quale si esprime un'attenzione dovuta alla rappresentazione della politica, anche con riferimento a ciò che è nella società italiana, credo sia stata utilmente richiamata e in modo condivisibile dalla direttora. Certo, c'è da domandarsi se quest'oggi allo stato attuale del dibattito pubblico nel nostro Paese la politica intesa in un modo novecentesco possa esaurire davvero il panorama della rappresentazione del dibattito pubblico perché c'è, insomma non vedi chi non veda, la residualità progressiva dell'esperienza politica per far luogo a movimenti, associazioni e diciamo altre espressioni della società civile. Quindi è un tema sul quale una riflessione andrebbe fatta. Mi consentirà e concludo la direttora di formulare però anche un'altra domanda per non rimanere sempre, come dire, dietro l'angolo delle cose. È evidente, non è priva di senso rispetto a questo tema che riguarda il pluralismo dell'informazione anche diciamo la direzione di marcia che sta prendendo la ristrutturazione, l'idea di ristrutturazione del sistema informativo in RAI, il piano gubitosi, il cosiddetto piano gubitosi. Allora la domanda è quale valutazione viene fatta da questa importante testata? se una riduzione ad tandem, così come viene detto, possa essere considerata, vedo che c'è condivisione, si brandiscono pezzi di suppellettile e dunque se questa riduzione può essere considerata coerente con un impianto di allargamento del pluralismo oppure no. Ci tratterei particolarmente ad avere l'opinione della direttora. Grazie. Gasparri. In una precedente audizione dissi al direttore, riesco a dire così, comunque insomma, Bianca Berlinguer, che il modello delle interviste potesse essere più, diciamo, esaustivo nell'equilibrio, anzi addirittura proponendo, avendo la RAI farete state, in qualche modo i direttori, anche se non so in che modo si possa fare, si equilibrassero, perché se invece di fare 10 secondi, 8 secondi, 15 secondi, quando una cosa è lunga ciascuno, alcuni sì, alcuni no, delle interviste, che poi nel corso del tempo riequilibrano, come è stato detto, le presenze, sono intervistate, sono le persone di una certa area, è ovvio che la cosa non funzionerebbe. Anche in funzione dell'interesse, io non vi dico, il suo telegiornale ha avuto la cortesia di chiedermi, non per 10 secondi, ma per 50, delle opinioni, perché c'era un dibattito nel mio partito e abbiamo dato fuori una cosa che mi consentiva di esprimere la mia opinione, quindi anche uno che seguiva poteva capire meglio che in 10 secondi che si potrebbero prendere dall'archivio, mettere dall'archivio, tanto più o meno, la legge è bella, la legge è brutta, eccetera, e quindi si potrebbe fare il telegiornale senza mandare nessuno in giro, quindi il piano dei risparmi del direttore generale potrebbe essere totale, utilizzando Raiteche, poi ogni tanto arriva uno nuovo, si registra e si mette in Raiteche e si fa un telegiornale a costo zero, senza operatori, senza nulla. Detto questo mi ha delle battute, io credo che è un'ottima soluzione, non vorrei che la prendessimo, però io nelle Teche ci sono, se hai problemi per quelli che non ci sono, quindi il problema è quindi di trovare un modo più giornalistico, però voglio ricordare che la legge sulla par condizione che la mia parte politica critica nacque, perché bisognava fare, frenare l'invasore e tutte le vicende che conosciamo e che per brevità di tempo do per scontate ai membri della Commissione di Vigilanza e ancora di più al vertice del Tg3. E quindi poi alla fine che cosa è successo? Io mi ricordo tanti anni fa che il Partito Umanista aveva diritto nei talk show allo stesso spazio, non so se allora c'era già il PDS, il PD o se c'era ancora appunto non c'era il PDS, c'erano altre cose, perché essendosi presentato in più di 5 regioni per legge il Partito Umanista, che fino a fatto è il Partito Umanista? Non si sa, ma non perché l'ha deciso la televisione, perché non l'ha votato nessuno, ora anche adesso alle prossime elezioni, molti fanno le liste, soprattutto nei periodi elettorali di par condicio, comunque uno va lì e ci sta e quindi in qualche modo lo dirà agli amici, lo dirà ai parenti e quindi crea un, i telegiornali in periodo di par condicio credo che siano incestibili perché diventa una specie di bollettino. Quindi io credo che si dovrebbe fare una riflessione, certo, ripeto, parlo da un settore politico che non vuole quella legge, ma non per lasciare un libero al video, perché oggi se ne vedono come posso dire, le ottusità burocratiche per certi lettori, perché ci sono forze politiche più importanti e altre meno importanti in base al consenso, o ci può essere dibattito all'interno, può volere per la mia parte, o lei ha citato l'articolo 18 eccetera, per altre parti che hanno un interesse giornalistico, perché poi incidono se c'è un governo, se non c'è sugli equilibri della democrazia. Quindi io credo che sia tempo, tra le tante cose che ci sono da fare, di rivedere una norma, non per abolire delle regole, ma appunto per vedere anche nei periodi elettorali come si debbano regolare le questioni, perché c'è anche un principio di rappresentatività democratica che crea, come posso dire, un ruolo diverso di forze politiche, poi soprattutto di quelle che strumentalmente spuntano liste. Andatevi a rivedere quante liste, non i simboli che si presentano al Biminale, che creano una confusione sui giornali e nei telegiornali, quello lo fanno tutti per tenere un marchio registrato, ma quelle che si presentano non sono tante quanti simboli, ma sono sicuramente più di quelle che fanno rappresentanza. Concludo dicendo che, mi unisco alle parole del senatore denorevole Pisicchio, non è ancora senatore, è ancora giovane, ma la faranno, anzi il Senato è stato abolito, non ha fatto in tempo, ha perso l'occasione, io ce l'ho fatta, quindi diciamo, lei non ce l'ha fatta. Deve fare il consigliere regionale. No, quelle regioni da Bidio ci scampi, le regioni meglio evitate. Allora, il problema è che secondo me questo piano di riorganizzazione, perché abbiamo parlato della Parcondicio, come potrà rapportarsi al pluralismo, che è una storia vissuta della Rai, ti registriamo la sua storia, la sua nascita, ti cito come fatto culturale della vita del paese, senza intento polemico, altre destate sono state più legate, come posso dire, alle maggioranze politiche dei governi. Come si articola questo paese? Avremo una Rai, secondo lei, se si faranno questi due contenitori, asettica, poi si cita sempre la BBC, dove poi nessuno si ricorda che Tony Bell ha cacciato il capo della BBC quando si arrabbiò dalla sera alla mattina, non c'è neanche la commissione di vigilanza e forse non lo disse neanche la regina. Quindi diciamo, in ogni paese poi i governi hanno una loro incidenza. Noi abbiamo discusso di questa cosa, se è su un piano di costi si potrebbe fare Rai Teche, così si evita, perché il direttore regionale gira con questa slide, questa foto di tutte le telecamere che sono andate in un posto e dice, vedete, bisogna eliminare. Gli sprechi vanno eliminati, però quelle telecamere a volte possono essere un punto di vista diverso per raccontare la stessa vicenda di cronaca politica e come una logica di storia politico-pluralistica, quindi la voglia non dire della Rai, può vivere in questa situazione oppure ci sarà l'informazione asettica, in quel caso consiglio Rai Teche. Grazie. A Erola, prego. Grazie dottoressa Berlinguerio, sono Alberto Erola del Movimento 5 Stelle, avevo risposto alla lettera della sua redazione sul piano Gubitosi, forse la letta, e lì diciamo già esprimevo un po' i dubbi nostri. Io ritengo, noi riteniamo che la correttezza dell'informazione si possa ottenere o con una, diciamo, una deontologia giornalistica che poi fa capo anche a un ambiente culturale di formazione di un certo tipo, in questo caso esempio BBC, tanto citato anche in questa commissione, o come diceva lei, come è successo in Italia per tanti anni, di pluralismo, cioè di tante voci. Per il mio movimento questo è un po' un problema perché purtroppo questo CDI è stato eletto nel 2012 e quindi rispecchia un'altra visione politica. E il piano industriale che ci è stato proposto, il piano di riorganizzazione dell'informazione, va a costruire uno scenario che non si sa bene dove incastonare, perché da una parte la governance resta questa, peraltro non aggiornata, quindi appunto rispecchiando ancora diversi equilibri politici. Dall'altra abbiamo un riordino dell'informazione senza governance che è qualcosa che lascia molto in dubbio. Io so di queste, abbiamo udito Gubitosi che ci ha detto che le due macro aree di un newsroom che coordineranno appunto i servizi per i TG che restano come brand, saranno una fase intermedia perché poi diventeranno una sola, quindi si va proprio in quella direzione, ma senza avere tutti gli altri elementi. Quindi qual è lo scenario più inquietante? È quello che appunto voi finché esisterete probabilmente come testate, dovrete, io immagino, alzare il telefono e chiedere a un altro direttore la produzione di un servizio che rispecchi la vostra posizione nel quadro pluralistico della RAI, cosa che è alquanto abbarrante. Poi ci piacerebbe anche sapere chi saranno i direttori di queste newsroom, perché qui c'è un punto. Io so che voi vi fondono con RAI News, TG1 con TG2, quindi ci sarà uno scontro, cioè voglio dire eleggeranno qualcuno in una votazione? Non lo so, adesso questo è una battuta ovviamente. L'altro aspetto è che c'è un altro piano. Ieri è venuto il sottosegretario Giacomelli e alla mia domanda ma la questione dello sconto sull'affitto delle frequenze eccetera eccetera è uno step in un percorso oppure è una iniziativa così singola. Mi ha detto no, è uno step. Oggi leggo che il Consiglio dei Ministri, abbiamo fatto anche un comunicato stampa, non opposto nessun veto alla cessione, alla privatizzazione parziale o meno di Terna, Rete Elettrica e di RAI. Quindi tutto fa pensare, queste sono mie ovviamente riflessioni, che si vada verso uno, una privatizzazione della RAI e una completa trasformazione appunto del pluralismo. Questo senza intervenire né sulla governance e senza soprattutto, poi staremo a vedere se questa riforma anche della governance come è stata promessa dal Presidente Consiglio eccetera avverrà come decreto, come anche oggi al Senato ci è capitato e oggi alla Camera ne voteranno un'altra, di fiducia, quindi con una fiducia senza nessun dialogo oppure coinvolgendo le forze parlamentari, i lavoratori della RAI eccetera eccetera eccetera. Però questo è un po' il quadro. Ora io sono molto stretto perché interviene anche una mia collega. Noi a questo punto non possiamo che chiedere una riforma completa di governance e di RAI, chiedere che questo venga fatto dal Parlamento perché attualmente è l'unica, sentendo tutti gli stakeholder i possibili immaginabili, però questo è l'unica organismo che attualmente ci garantisce ancora un po' di democrazia, ovviamente con l'azzeramento del CDA, ripartendo di lì, ma per adesso dobbiamo affidarci alla correttezza dei giornalisti e noi purtroppo in RAI il nostro movimento in questo lamenta da sempre. Noi non facciamo talmente interrogazioni. Quindi l'unica cosa che noi possiamo chiedere è che ci si affidi veramente alla serietà dei giornalisti, perché se no questo Paese ha un deficit democratico notevole, voi siete responsabili, lo sapete benissimo, della democrazia, perché l'informazione è democrazia. Non è un caso che appunto le dittature mettono le mani subito sui mezzi di informazione. Quindi il mio primo appello è questo, poi appunto la mia collega procederà a Agicom, sì è vero, controlla, ma poi non sanziona. Noi abbiamo fatto numerosi esposti, per esempio per le sovraesposizioni del nostro Presidente del Consiglio, anche durante la campagna elettorale di maggio, quindi anche in parcondicio. Però Agicom ha riconosciuto che poi non è partita la sanzione perché poi è troppo tardi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lascio la parola agli altri, non voglio tediarla, però il punto centrale è questo. Io vorrei che lei mi rispondesse se ritiene che la mia proiezione è condivisibile da voi oppure no. Grazie. Grazie Rola. Nesci. Grazie per la parola. Innanzitutto sullo spunto del Senatore Gasparri, penso che ci siano anche forze politiche che continuano ad essere percepite come più importanti di altre proprio perché la TV le mantiene in vita e che magari in realtà sono assolutamente scollate dalle aspirazioni sociali, per la collettività. Ringrazio il Direttore che è qui presente e per l'appunto vorrei fare una riflessione con lei e avere quindi anche da parte sua un riscontro. Il Movimento 5 Stelle, come è noto, presta particolare attenzione al tema del pluralismo politico, nell'informazione diffusa dal servizio pubblico radio televisivo anche e soprattutto nei periodi non elettorali, perché mi sembra che nel suo intervento si sia per lo più soffermata sui periodi elettorali. In diverse occasioni, con diversi strumenti, abbiamo denunciato la presenza più o meno costante, più o meno omogenea, tra le destate, di due anomalie differenti. Da un lato la svalutazione sul piano qualitativo del lavoro parlamentare svolto dal Movimento 5 Stelle e penso ad esempio al modo in cui sono state raccontate dai notiziari, diciamo la procedura di conversione in legge del famoso decreto IMU-Banchi Italia e dall'altro la svalutazione sul piano quantitativo delle ragioni delle opposizioni all'interno del Parlamento. Rispetto al pluralismo politico, letto dal punto di vista qualitativo, tuttavia sentiamo la mancanza di parametri di valutazione concreti da parte dell'Agicom. Ci sono dei principi che la legge stabilisce e che il Tarra recentemente ha richiamato, fra cui appunto la correttezza, la completezza e l'obiettività dell'informazione, ma concretamente non sappiamo come misurarli e tutto questo è rimesso ai comportamenti e alle autovalutazioni dei soggetti che compongono la catena dell'informazione, quindi dai direttori, dalle testate fino ai montatori dei servizi. Dall'altro lato c'è l'aspetto quantitativo altrettanto decisivo, legato al tempo di parola fruiti dai soggetti politici. Dall'insediamento del nuovo esecutivo, ad esempio, i dati relativi al tempo di parola dei soggetti politici in tutte le edizioni del suo telegiornale evidenziano una marcata sottrappresentazione del Movimento 5 Stelle rispetto ai due soggetti analoghi sotto il profilo della rappresentanza parlamentare, seguendo l'attuale principio interpretativo dell'agicom, ovvero un principio che deve tenere conto anche del fatto che i partiti della maggioranza godono indirettamente anche del tempo fruito dal governo e soprattutto deve tener conto del fatto che il meccanismo del premio di maggioranza è stato dichiarato incostituzionale dal giudice delle leggi, anche per effetto della sentenza. Quindi un servizio pubblico che sia davvero serio e rigoroso tratterebbe oggi senza distinzioni perlomeno i principali i soggetti parlamentari, questa è la nostra opinione. Gli ultimi dati diffusi all'agicom relativi al mese di settembre ci dicono che il tempo di parola del Movimento 5 Stelle è addirittura pari al 6%, contro il 18% di Forza Italia e il 57% del Partito Democratico. Si tratta quindi di squilibri enormi che non trovano a nostro giudizio alcuna giustificazione, né con riferimento alle pur rispettabili sensibilità editoriali, né all'agenda tematica e alla necessaria correlazione delle notizie all'attualità e alla cronaca. È davvero da troppo tempo che perdura questo stato di cose e con l'occasione abbiamo la possibilità di dirglielo e per noi questa situazione non è più accettabile. Ci aspettiamo una netta inversione di tendenza da parte del suo telegiornale, sia per quanto riguarda i dati quantitativi, sia per quanto riguarda il modo di rappresentare l'attività che questo movimento svolge quotidianamente all'interno e anche all'esterno delle aule parlamentari. Grazie. Grazie Nesci. Margiotta. Molto rapidamente, non mi soffermo sulla par condicio che trovo già piuttosto grottesca in periodo elettorale, ancora di più in periodo non elettorale, difficile da garantire per le cose che ovviamente lei ben più di me sa dire e ha detto. Le faccio invece due o tre domande, alcune anche anticipate da Pisicchio. Sul pluralismo, il direttore generale che ha aperto questa audizione a proposito del tema del riordine dell'informazione, ha detto una cosa interessante, anche quella difficile da garantire, cioè che il pluralismo non dovrebbe essere più garantito da più reti con diversa ispirazione politica, ma in qualche modo dall'obiettività del singolo giornalista. Quindi non affidare ad avere più voci, una sorta di informazione a canne d'organo, il risultato finale del pluralismo, quanto affidarlo alla obiettività, alla correttezza anche del singolo giornalista. Su questo volevo sapere la sua opinione. Sulla riforma, se non ha cambiato idea dall'intervista che ha fatto al Corriere della Sera nel mese di luglio, io credo di conoscere le sue opinioni su questa impostazione sin cui data, su cui peraltro la Commissione si sta interrogando e anche grazie al relatore Pisicchio redigerà una risoluzione finale. Tre questioni. La prima, perché due newsroom e non una sola? Se si va verso una semplificazione è meglio andare verso una sola. C'è stato detto, lo ricordavo credo a Irola prima, che perché si tratta di un momento di transizione. Però non è del tutto convincente la questione della transizione. Il timore che io ho è che pensare a due newsroom equivale in qualche modo anche inevitabilmente a tornare al vecchio schema per cui una newsroom avrà un orientamento politico e l'altra ne avrà un altro. e quindi ci sarebbe una semplificazione certo rispetto allo schema 1975 ma senza fare un notevole passino avanti. E poi so che insomma lo chiedo a una persona che invece ha manifestato già delle critiche al riguardo. L'altra cosa che non è chiarissima è perché c'è un accorpamento e non ce n'è un altro. Uno che mi spieghi bene perché Tg1 e Tg2 devono andare insieme a Parlamento e Tgr insieme a Tg3 non l'ho ancora trovato nel mondo Rai. Non so la sua opinione. Se ci siamo capiti. Infine, e questo mi interessa anche di più, considerata anche la sua esperienza di direttore di testata, ma lei avrebbe una proposta alternativa a quella che oggi avanza? Grazie Margiotta. Peluffo. Grazie Presidente. Mi permetto di tornare sull'oggetto dell'audizione perché ho ascoltato anche con interesse colleghi commissari che hanno fatto rimostranze rispetto alla presenza della propria forza politica. Su questo hanno a disposizione le interrogazioni, hanno più volte l'occasione. così come ho sentito il collega Gasparri cimentarsi su un terreno che non è quello proprio dell'audizione di oggi. Nel senso che noi dovremmo discutere dello schema dell'Ajcom e non della par condicio in sé. Perché ho visto che da questo punto di vista il Senatore Gasparri ci ha provato. Rimettendo in discussione dal suo punto di vista una legge rispetto alla quale voglio ribadirlo anche in questa occasione. Se se ne vuole discutere è giusto ricordare che per quanto ci riguarda lo si può fare nel momento in cui si rimette mano in maniera seria al conflitto di interessi e si rimette mano soprattutto alla legge Gasparri su cui c'è un'opinione da questo punto di vista di ammetramento opposto rispetto al Senatore Gasparri. Io volevo riprendere alcune considerazioni del Direttore Berlinguer rispetto allo schema perché nella sua relazione ha offerto alcuni spunti che credo debbano essere sottoposti ad una riflessione per quanto riguarda la discussione che facciamo in Commissione. E poi anche io mi permetto di fare una domanda sul progetto informazione. La prima questione che ha sollevato il Direttore Berlinguer è il rischio che un conteggio meramente quantitativo, è stato detto, rischi di prescindere dalla qualità dell'informazione. Credo che questo sia un elemento che debba essere al centro della riflessione che noi dobbiamo svolgere nella predisposizione della risoluzione anche perché questo conteggio, questo minutaggio sta diventando sempre più complicato nel senso che se prima poggiava sullo schema delle coalizioni e all'interno delle coalizioni il conteggio sulle singole forze politiche adesso le coalizioni evidentemente non sono più soltanto due visto che c'è almeno il risultato delle politiche poi confermate quello di uno schema tendenzialmente tripolare che ad oggi non dà segnale di un riassorbimento ma anzi dà uno schema in qualche modo strutturale oltre a questo quindi la necessità di guardare in maniera più ampia a come si sta organizzando l'offerta politica il Direttore Berlinguer segnalava anche che l'attualità ci consegna poi anche un'articolazione all'interno dei singoli partiti e come considerare allora da questo punto di vista secondo me la riflessione che ci viene proposta e che merita un approfondimento è il conteggio, comunque l'attenzione che non può essere soltanto quello quantitativo non può essere solo il minutaggio ma deve essere l'attenzione ai temi peraltro c'è ormai una letteratura che ci offrono anche gli esperti di comunicazione politica che la parte fondamentale di ogni campagna elettorale è il cosiddetto agenda setting cioè fare in modo che alcuni temi entrino nel dibattito in campagna elettorale anzi meglio prima della campagna elettorale cioè centra e conta molto di più che alcuni temi siano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica che non quella forza politica la tua forza politica abbia visibilità credo che questa sia una riflessione che è giunto il tempo di condurre e farlo fino in fondo nella discussione che stiamo facendo poi il direttore ha fatto riferimento al senso di responsabilità dei direttori che è stato richiamato anche dal collega Airola io credo che non sia solo una rivendicazione giusta del ruolo e della categoria di appartenenza ma credo che sia giusto il riferimento al senso di responsabilità e alla responsabilità dei direttori io credo che questo sia l'altro elemento su cui mi sembra che nello schema di delibera questo non ci sia a sufficienza e poi infine sempre su questo è stato messo in evidenza un problema rispetto al tempo di rilevamento cioè se fatto soltanto su base giornaliera rischia di comprimere rischia di costringere a riequilibri con le caratteristiche che sono state richiamate quindi questo il tempo di rilevamento dovrebbe essere su un tempo più lungo ora siccome è emerso anche in altre audizioni invece la mia domanda era su questo cioè se il tempo di rilevamento deve essere più lungo e questo mi è chiaro l'ho compreso ha senso anche che venga legato alle fasce orarie e alle fasce d'ascolto lo dico perché è una cosa che era stata ammessa in evidenza era se il riequilibrio è su base giornaliera e una forza è stata compressa diciamo così in uno spazio temporale che è quello di maggior ascolto e poi il riequilibrio viene fatto nella stessa giornata però a notte fonda diciamo così certo il riequilibrio in termini di minutaggio c'è in termini di impatto quindi va bene allargare la fasce di rilevamento però forse farlo per fasce d'ascolto credo che questo possa essere l'alternamento sul progetto informazione anch'io lo ha detto il senatore Margiotta per cui aggiungo soltanto una postilla anch'io ho questa domanda anche perché l'abbiamo rivolta al direttore generale e non siamo riusciti a capirla fino in fondo limite nostro forse l'abbiamo rivolta anche i suoi colleghi Tg1 e Tg2 perché non riusciamo a comprendere perché lo ha detto il senatore Margiotta questo passaggio intermedio e poi perché il Tg1 con il Tg2 Tg3 con Tgr Rai News c'è dal punto di vista tecnico ci sono piattaforme maggiormente compatibili o invece c'è una omogenità di carattere editoriale perché non si riesce a capire fino in fondo perché di primo acchitto Tg3 che è telegiornale nazionale forse dovrebbe stare anche lui con il Tg1 e Tg2 però forse oggi abbiamo la possibilità di comprendere fino in fondo la motivazione di questa scelta e ultima domanda collegata a questa volevo capire visto che se ne era parlato un po' di tempo fa noi stiamo facendo il ciclo di audizioni per poi predisporsi alla risoluzione se nel frattempo che noi facciamo questa discussione per esprimere il parere va avanti il lavoro e quindi rischiamo di fare magari una discussione esprimere un parere quando le cose sono già state fatte se ci sono regioni tecniche in corso c'è un'accelerazione una riflessione ecco avere Presidente da questo punto di vista anche noi qualche elemento in più sull'utilità anche del nostro lavoro Rampelli prego grazie Presidente intanto per ringraziare il direttore della sua relazione della sua professionalità direi che anche la capacità di dare come veniva definito a una testata giornalistica una identità specifica è un fatto decisamente interessante che io mi sento di confermare quindi nella moltitudine di testate che esistono nel tentativo di procedere a razionalizzazione non v'è dubbio che il Tg3 abbia avuto comunque la capacità di manifestarsi come un prodotto diciamo così originale con le sue caratteristiche appunto come si diceva la sua identità il tentativo di ristrutturare il tema del pluralismo nell'informazione è evidentemente complicato penso che insomma non lo possiamo scoprire oggi ma sono decenni che si discute e potremmo proseguire a farlo per altrettanti decenni penso che tutto si possa dimostrare dialetticamente ma il meglio è spesso nemico del bene e quindi io partirei dalla considerazione elementare che pluralismo significa garantire a tutti la possibilità di esistere di manifestarsi e di essere apprezzati o disprezzati attraverso il logico ricorso all'informazione e alla notiziabilità delle iniziative che vengono intraprese la possibilità di essere giudicati devo dire mi dispiace che il collega Peluffo ancora una volta per la terza volta consecutiva abbia stigmatizzato il comportamento di chi utilizza in quota parte questo consesso anche per fare presente delle difficoltà di presenza non vedo dove se non qui altrimenti dovremmo stare attaccati al telefono oppure fare le ventresche davanti alle stanze dei direttori e dei telegiornali penso che sia molto meglio farlo qui in perfetta trasparenza come hanno fatto anche altri colleghi prima di me e io devo dire che per quello che riguarda Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale la presenza è decisamente deludente sta molto al di sotto della rappresentanza data prevista anche dall'Agicom con tutti gli incroci possibili e immaginabili e persino in periodo di parcondicio dico persino perché per tornare al tema a mio giudizio ho sempre avuto un atteggiamento molto critico ritenendo la parcondicio una sorta di macete con il quale tagliare pezzettini di informazione quindi in quanto tale decisamente de-responsabilizzante e poco conveniente però va detto che se questo è appunto essendo il meglio nemico del bene meglio una parcondicio che garantisce l'1,5% sul 2,3% che magari competerebbe a una forza politica come quella che rappresento anche più stando ai risultati delle ultime elezioni europee piuttosto che lo 0,3 0,2 0,18 0,4 della norma cioè quando salta l'ombrello della parcondicio dove la discrezionalità diventa spesso per taluni non per tutti per taluni libero arbitrio dopodiché è tutto vero tutto il resto è vero si può discutere di tutto potremmo qui approfondire vi chiedo un po' di silenzio per favore quando le iniziative che vengono intrapese sono notiziabili potremmo discutere di quanto appartenga alla maggioranza all'opposizione una posizione distinta e distante sull'articolo 18 del principale partito della maggioranza stessa potremmo discutere di tutto perché effettivamente appunto insomma però ritengo che se una base di partenza possa prevedere un diritto all'esistenza questo comunque non esclude poi l'approfondimento con le interviste piuttosto che altri strumenti che possono consentire comunque i numeri che poi esistono perché il 57% dato al Partito Democratico piuttosto che il 20% a Forza Italia penso che siano dei numeri molto importanti non mi sento di aspirare a tali numeri almeno finché avremo per quello che mi riguarda una forza che non tocca il 4% però devo dire che bisogna anche fare attenzione perché se è vero che il circuito mediatico ha una capacità nel bene e nel male di evidenziare e valorizzare alcuni dati di alcuni partiti è anche vero che secondo il mio modessissimo avviso ma insomma c'è stato anche un minimo di ricerca scientifica che ha dimostrato quel che sto per aggiungere è anche vero che per una grande forza politica non è che se prende il 100% dello spazio televisivo raggiunde il 120% delle percentuali elettorali per un movimento di opposizione o un nuovo movimento c'è negli Stati Uniti di America funziona addirittura che si danno delle agevolazioni ai nuovi movimenti per un certo periodo di tempo districarsi in queste percentuali significa in buona sostanza precludersi la possibilità di passare da una fase di radicamento e quindi di riconoscibilità con il contatto a una fase di penetrazione in parte nell'opinione pubblica e quindi la possibilità di misurarsi con le altre forze politiche per stabilire se uno abbia o meno la stoffa i contenuti e tutto il resto per competere quindi non parliamo di questioni di lana caprina qui nessuno vuole incestare l'informazione e nessuno vuole dire che i nostri giornalisti sono dei fetenti non sono capaci sono dei somari o altro abbiamo il miglior giornalismo del mondo quando si palesa con delle eccellenze io sono convinto il mio giudizio è assolutamente positivo anche nei confronti da sempre nei confronti del direttore Berlinguer quindi non ho nulla da rimproverare però resta il fatto che si cammina su un filo del rasoio e bisogna avere la capacità anche di rendersi conto che alcune sottovalutazioni e alcune conseguenti sottorappresentazioni possono portare comunque a dei risultati che non sono importanti soltanto dal punto di vista del bilancino delle presenze giornalistiche delle presenze televisive nei telegiornali ma sono importanti anche per gli effetti sociali e culturali che si possono determinare concludo dicendo che a mio giudizio concludendo insomma la questione della parcondicio può essere meglio regolamentata si può secondo me anche estendere il discorso della contabilizzazione quotidiana è un discorso sicuramente negativo che si può mitigare che si può aggiustare bisogna essere meno fiscali ma se l'alternativa alla parcondicio anche in epoca non elettorale è quella del si salvi chi può io non sono d'accordo penso che non sia neanche giusto che un giornalista si debba portare sulle spalle il peso la delicatezza la responsabilità incommensurabile di decidere il destino positivo o negativo il futuro di una forza politica attraverso un errore una svista una se vogliamo rimanere alle cose diciamo così date senza intervenire sul fatto che comunque esiste un consiglio di amministrazione che ancora oggi la governanza prevede che il consiglio di amministrazione sia espressione delle forze politiche perché ha nominato al Parlamento eccetera 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 che viva Dio qualcosa conterà penso che un minimo di condizionamento lo eserciterà come denunciavano anche i colleghi del Movimento 5 Stelle grazie ci sono altri interventi lei Nati prego grazie presidente la dottoressa Berlinguer Giuliano Giubilei e Pierluca Dersulli sanno benissimo che ho passato una decina d'anni a come dire invadere le agenzie di critiche al TG3 per cui non come dire non voglio tornare sulle polemiche del passato scusate un attimo questi telefoni non so credo non siano i miei io li ho spostati i telefoni quindi dicevo nel rispetto reciproco la mia forza politica ha rivolto molte critiche al TG3 negli anni scorsi anzi ci sono stati dei conflitti molto accesi come anche il presidente Gasparri ricorderà benissimo quindi diciamovi è curioso che oggi invece non sia nella posizione di altri che pur stando all'opposizione hanno fatto dei rilievi sul minuti secondi e frame che non verrebbero allora attribuiti invece io devo dire che ho trovato un un'evoluzione forse anche dal bellezza dello studio veramente televisivamente tra i più belli che abbiamo mai visto forse appunto determinato dall'evoluzione tecnologica che vi ha in qualche modo favorito o trovo un generale equilibrio che si manifesta sempre con critiche del tutto legittime a varie forze politiche e a prese di posizione di vari leader tenendo per altro conto che ci sono anche degli spazi di approfondimento che sono anche una caratteristica storica del vostro telegiornale detto questo io mi associo un po' alle osservazioni fatte dal collega Peluffo facendogli però notare che forse Italia nel 2000 ha passato tre giorni e tre notti davanti a Montecitorio e faceva un freddo micidiale per protestare contro la par condicio la legge che il governo Amato voglio dire impose all'epoca e quindi diciamo noi abbiamo fatto il nostro ruolo fuori e dentro il Parlamento all'epoca se il centro sinistra non ha approvato la legge sul conflitto e i taressi però non potete dare la colpa a noi perché quella che abbiamo approvato noi fatta dall'allora ministro della funzione pubblica professor Frattini evidentemente non è ritenuta congrua ma comunque è stata fatta e approvata dal Parlamento detto anche questo io chiudo chiedendo a lei appunto una valutazione su questa curiosa idea del direttore generale di creare queste newsroom che dovrebbero portare a un risparmio economico ma secondo me a un caos informativo assolutamente inquietante per cui cerchiamo di intervenire prima che esploda questo caos non vorrei essere nei panni del presidente Pisicchio che dovrà trovare una sintesi per una cosa che veramente si annuncia ai limiti dell'impossibile grazie è venuta fuori la verità sul relatore ci sono altri interventi e allora prego allora io comincerei visto che siete tutti molto interessati a questo piano informativo di Gubitosi quindi ci sono varie questioni che mi avete posto al quale rispondo volentieri perché voi sapete che peraltro come io l'ho detto subito anche al direttore generale io ho espresso diciamo delle riserve rispetto a questo piano anche ben diverse da quelle che sono i direttori degli altri due tre telegiornali perché naturalmente poi ascolterete anche il direttore di Regnus e in questo mi sento di concordare soprattutto per diciamo far capire qual è la riserva più grande che mi lascia molto perplessa rispetto al piano con quello che ha detto prima l'onorevole Irola cioè io la cosa che penso è che la RAI ha bisogno sicuramente di una riforma importante anche magari radicale ma non si può partire dall'informazione perché noi non sappiamo ancora che tipo di governance avremo non sappiamo che tipo di RAI avrà il futuro cioè quale futuro per quale servizio pubblico per il futuro non sappiamo niente delle reti penso che sia sbagliato portare avanti una riforma dell'informazione senza tener conto delle reti anche perché quello che ha fatto grande la RAI nel passato io insomma ci sto da molti anni perché quando ho cominciato a collaborare ero molto giovane quindi me la ricordo ai tempi in cui era davvero la grande RAI è stata una politica di canale molto precisa molto caratterizzata in cui l'informazione del telegiornale era interagiva anche con quello che era il modello di rete dentro il quale come dire si trovava rappresentato quindi faccio un esempio insomma che tutti ricordano ne parlavo prima peraltro di entrare anche col presidente Fico che riguarda per esempio il canale 3 il telegiornale di Cursi con la RAI 3 di Angelo Guglielmi ma voglio dire il telegiornale il Tg1 quando era a livelli di ascolto che oggi non ha più nessuno non è che non ha più il Tg1 perché naturalmente c'è molta più concorrenza rispetto ad allora interagiva strettamente con quella che era naturalmente il canale dentro il quale faceva la sua informazione quindi da questo punto di vista penso che questa riforma parta dai piedi e non dalla testa cioè bisognerebbe prima riformare la RAI e pensare qual è come dire il mandato editoriale delle reti e poi dentro questo naturalmente analizzare quello che può essere il mandato editoriale dei telegiornali che io dentro questa riforma ancora non vedo nel senso che vedo un accorpamento di due testate Tg1 e Tg2 più RAI Parlamento Tg3 RAI News più i telegiornali regionali che però a quanto ho capito arriverebbero dopo cioè arriverebbero nel 2016 perché questo mi è perso di capire che ci sarebbe prima un accorpamento di Tg3 RAI News e poi dei telegiornali regionali però non vedo nessun mandato editoriale che li distingua anche l'uno dall'altro mi sembra come dire che sia forse un accorpamento un po' troppo precipitoso rispetto invece a un'analisi a un ragionamento di cui oltretutto non può essere responsabile solo il Consiglio di Amministrazione della RAI perché se noi prescindiamo tutti dicono che c'è necessità di riformare la governance ma se c'è necessità di riformare la governance c'è anche necessità naturalmente di capire quale sarà il mandato del servizio pubblico e come si articolerà perché siamo sicuri che la RAI del futuro continuerà a avere tre reti distinte in questo modo caratterizzate in questo modo io questo francamente non so dirlo in più c'è anche un'altra questione che i telegiornali oggi nei tre canali in cui vanno in onda quindi uno due e tre rappresentano una delle punte di ascolto più importanti diciamo del canale dentro il quale sono e quindi siamo anche attenti come dire a far sì che poi comunque quell'ascolto magari ci si vada a perdere invece che a guadagnare scusate ma mi prendo mi prendo degli appunti qui di quello che avete detto queste sono diciamo perplessità che io ho espresso subito al direttore generale dicendogli che poi dicendogli appunto che mi sembrava che di non essere d'accordo proprio per questo motivo e tra l'altro rispetto anche al discorso che viene fatto di risparmio perché molto si dice questo accorpamento servirà soprattutto per risparmiare io sento parlare non so se è vero ma io credo che forse dietro a questo accorpamento c'è anche se non è stato ufficializzato in nessun modo magari un piano anche che prevede un certo numero di esuberi giornalistici come è successo per molte altre aziende non testate se così fosse allora a questo punto si capirebbero quelli che sono i risparmi però insomma credo che sia giusto dichiararlo esplicitamente cioè dire esplicitamente che dietro a questo piano siccome si vuole risparmiare c'è questo ma allora è un'altra logica che lo muove allora diciamo che ci muoviamo perché comunque in una logica ben diversa da quella invece in cui è stato presentato io pure penso anch'io credo che se riforma debba essere ma comunque non riesco a concepirla svincolata dai canali dentro i quali i telegiornali lavorano comunque a quel punto l'ho detto anche appunto in questa intervista al Corriere della Sera che avete ricordato non si capisce perché non si faccia un unico grande telegiornale 1, 2 e 3 tutti insieme e Rai News naturalmente separatamente perché Rai News proprio perché è un all news come lo vedete tutti naturalmente ha un modo di impostare le notizie molto diverso da quelle che sono invece i telegiornali che vanno in onda in precise edizioni e in determinate fasce di ascolto quindi da una parte casomai i tre telegiornali 1, 2 e 3 e dall'altra invece l'all news come giusto che sia con tutte le sue caratterizzazioni che la rendono diversa e che tra l'altro il Tg3 essendo come dire previsto un accorpamento a un all news sarebbe quello anche forse più destinato a perdere identità perché inevitabilmente come dire l'informazione dell'all news andando in onda 24 ore e continuativamente ha un'identità diciamo più sbiadita rispetto a quello che può essere ma non per responsabilità di nessuno naturalmente proprio perché così è concepita l'all news quindi queste sono molte molte vedete fatemi ricordare le altre questioni che mi avete che mi avete posto rispetto alla ecco una proposta alternativa attualmente io non posso dire di averla proprio perché non riesco a pensare una proposta svincolata da una riforma generale della RAE da una riforma anche più radicale magari di questa però penso che prima bisogna lavorare a quello e poi dopo si procederà naturalmente a una riforma anche drastica anche molto significativa dell'informazione in questo momento mi sembra che questo sia più un accorpamento che una riforma se è un accorpamento destinato naturalmente a produrre dei risparmi li vedo solo in funzione appunto di un piano di esuberi che però non è stato dichiarato quindi devo pensare che non ci sia perché se no sarebbe stato dichiarato per quanto riguarda poi appunto le truppe 1, 2, 3, 4 che sono è vero che in certi avvenimenti se ne potrebbe utilizzare solo una e invece se ne utilizza più di una però dove è possibile soprattutto per quanto riguarda l'informazione politica questo insomma cerchiamo sempre di farlo di ridurre al massimo e già di utilizzare naturalmente quello che è una sola e unica truppe se il progetto sta andando avanti il progetto io credo che stia andando avanti nel senso io non ho informazioni precise dirette in merito quindi non non posso dirvi che qualcuno mi ha comunicato che sta andando avanti ma mi risulta che naturalmente si sta lavorando anche perché c'è un problema di a quanto ho capito accorpamento tecnico molto più complicato di quanto era stato previsto soprattutto per quanto riguarderebbe il TG3 e Rai News perché hanno due tecnologie differenti quindi non è semplice naturalmente l'accorpamento mentre invece per l'uno e il due visto che abbiamo fatto recentemente tutte e tre noi tre telegiornali la digitalizzazione la questione sarebbe più semplice quindi mi risulta che si stia lavorando anche piuttosto intensamente a risolvere queste questioni che però non prevederebbero ma questo lo dovete chiedere al direttore generale naturalmente che lo sa molto più di me tempi brevi perché insomma questo accorpamento tecnologico mi dicono non sarebbe molto rapido soprattutto tra il TG3 e Rai News quanto poi a se si procederà o no alla nomina dei direttori di queste due newsroom forse ancora prima di arrivare alla come dire alla fine di questo processo di accorpamento perché se poi i tempi risulteranno più lunghi naturalmente non so se si procederà prima del processo oppure alla fine perché queste sono notizie naturalmente che circolano in Rai di vario genere ma non mi sento di riportarvele c'è chi dice che i direttori li faranno prestissimo c'è chi dice che invece si aspetterà un po' più di tempo chi dice entro il 15 dicembre però non sono notizie ufficiali sono naturalmente notizie ufficiose quindi io non posso darvele con la certezza di che siano vere o non siano vere come potete immaginare in un'azienda come la Rai circola ogni giorno praticamente diciamo un po' di tutto anche a seconda di quello che scrivono lo scrivono i giornali questo per quanto riguarda le mie perplessità sul piano di accorpamento veniamo invece alla questione della par condicio e del minutaggio la par condicio lo sapete tutti è inutile che lo ricordo io è nata perché c'era il conflitto di interessi quindi insomma inutile ricordare che ancora non essendo stato risolto quindi ancora quella legge diciamo sta in piedi quindi la mia relazione era soprattutto legata al fatto che chiaramente bisogna ridiscutere anche la par condicio anche rispetto appunto peraltro l'onorevole Gasparri se lo ricorda quando qui ero stata appena nominata la prima audizione che feci in commissione parlamentare e dissi abolirò completamente i pastoni non li voglio più vedere perché danneggiano il telegiornale e danneggiano gli stessi politici perché come voi sapete spesso addirittura si fa una dichiarazione così piantata nel vuoto senza neanche la domanda del giornalista dove si dice dammi 20 secondi che devo riequilibrare che devo come dire far vedere che anche voi ci siete e quella è una cosa che non serve né al politico né al giornalista noi ne abbiamo come dire tenuto conto tant'è che abbiamo fatto solo ed esclusivamente interviste e mai preso dichiarazioni che non siano rilasciate ai giornalisti del Tg3 a precisa domanda naturalmente arriva la risposta dell'uomo politico chiaramente ci sono delle forze io do per il Movimento 5 Stelle mi sono portata i dati che adesso tirerò fuori perché quello che spiegavo prima era che non si può procedere ecco l'esempio che è stato fatto dall'onorevole del Movimento 5 Stelle è vero che noi abbiamo sottorappresentato il Movimento a settembre ma se adesso io le tiro fuori il dato di ottobre e dico che a ottobre il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito rappresentato dentro il Tg3 perché? Che cosa è successo? Che a ottobre ci sono state molti adesso glielo leggerò molte iniziative politiche c'è stata naturalmente la tre giugno del Circo Massimo c'è stata la visita di Beppe Grillo a Genova c'è stato un dibattito politico anche dentro il Movimento molto intenso che noi abbiamo seguito e rappresentato è chiaro che noi ci atteniamo noi cosa succede? che noi perché a settembre risulta per esempio molto rappresentato il Partito Democratico perché? Per la questione che spiegavo prima e poi sull'articolo 18 gran parte dell'opposizione a quella riforma del lavoro è arrivata proprio dall'interno da dentro il Partito Democratico quindi noi non possiamo andare con un criterio astratto e predeterminato è chiaro che noi ci atteniamo a quello che è il dibattito politico noi rappresentiamo quello quindi se nel mese di ottobre io adesso lo voglio leggere questo dato perché sapevo tra l'altro che ci sarebbe stata questa obiezione ed è verissimo che durante il mese di settembre il Movimento 5 Stelle è stato sotto rappresentato perché ha avuto il 3-3% che naturalmente non corrisponde alla sua forza ma durante il mese di ottobre ha avuto il 17-2% ed è il dato più alto di tutti gli altri potete andarvelo a confrontare come volete di tempo io sto parlando naturalmente del tempo concesso direttamente in voce ai rappresentanti del Movimento adesso per dire una cosa quando ci fu tutto il grande dibattito tra la divisione tra quando ancora c'era il PDL tra Forza Italia e Nuovo Centro Destra noi per mesi io sono stata richiamata perché mi dicevano guarda che tu stai dando troppo spazio al PDL quindi nei nostri dati vi farà sorridere questa considerazione venivo richiamata da Viale Mazzini perché appunto tra l'altro appunto questo riguarda tutti non solo venivo richiamata a Viale Mazzini che devo dire che su questo il direttore generale giustamente ci richiama e ci dice non prendete multe perché sennò le pagate voi per cui dobbiamo stare molto attenti venivo richiamata e mi dicevano guarda devi assolutamente riequilibrare perché Forza Italia PDL allora il PDL ha troppo spazio dentro tutto il giornale è vero che i fratelli d'Italia sono sottorappresentati questo devo dare atto che c'è effettivamente gli ultimi dati sono un po' carenti quindi recupereremo anche se ogni volta che c'è stata un'iniziativa dei fratelli d'Italia e insomma mi è stata segnalata spesso soprattutto l'onorio della russa noi l'abbiamo sempre eseguita quindi noi ci atteniamo spesso anche a quelle che sono le iniziative naturalmente e la partecipazione al dibattito politico delle questioni di attualità questo è quello che soprattutto poi muove l'informazione di tutti i telegiornali e anche del nostro però dai dati l'avevo già notato io che quindi ci impegniamo naturalmente il senatore Rampelli a riequilibrarli però questo è quello che poi soprattutto ci porta a decidere poi l'agenda politica della giornata dove come voi sapete noi spesso cerchiamo di avere direttamente non solo durante il telegiornale delle 19 ma esponenti politici in diretta è chiaro che se io chiamo un esponente politico in diretta alle 19 e più o meno gli do 4 minuti che sono un tempo molto molto lungo per un telegiornale mi basta chiamare due volte al mese un esponente politico di qualunque partito in diretta alle 19 per poi avere dei problemi per esempio durante il periodo elettorale gravissimi di riequilibrio perché non sono in grado di riequilibrare 8 minuti concessi a un esponente politico poi voi sapete benissimo che noi abbiamo l'informazione di linea notte quindi abbiamo anche un'informazione che prevede un dibattito un'ora di dibattito in studio e quindi però quella è diversa perché naturalmente noi non possiamo riequilibrare le 19 le 14 attraverso linea notte nel senso che quella questione che giustamente poneva prima l'onorevole Peluffo cioè del dire benissimo io ti ho sottorappresentato nel telegiornale delle 19 e quindi recupero questa sottorappresentazione in linea notte non è già possibile adesso perché sarebbe un imbroglio perché chiaramente il telegiornale delle 19 proprio perché va in onda è il telegiornale di massimo ascolto del Tg3 che ha un ascolto diverso rispetto a quello sia pur importante significativo di dire una notte ma che naturalmente è molto inferiore nei numeri quindi già oggi questo riequilibrio è possibile solo infatti se io sottorappresento le 14.30 e le 19 devo poi come dire recuperare in quei due telegiornali che sono considerati i telegiornali di massimo ascolto ma insomma solo per dirvi quello a cui portano alcune che sono diciamo considerazioni di par condicio nel periodo elettorale quando ci sono le elezioni regionali che noi dobbiamo dar conto delle elezioni regionali noi non possiamo intervistare per esempio o neanche far fare una battuta a quelli che sono magari i due tre governatori che sono considerati davvero in corsa cioè quelli che potrebbero vincere le elezioni non possiamo neanche invitarli a partecipare ai dibattiti alla linea notte perché se no saremo poi costretti a sentire tutti quei 20 esponenti che senza nessuna possibilità di riuscita ma senza neanche naturalmente ottenere un solo consigliere regionale partecipano a quelle elezioni quindi ci sono chiaramente tutta una serie di questioni che vanno secondo me anche ridiscusse questo naturalmente è compito della politica quanto al senso di responsabilità dei direttori e dei giornalisti non vedo francamente un modo molto credo che poi a tutt'oggi ci si debba affidare soprattutto a quello alla correttezza dei giornalisti e al senso di responsabilità dei giornalisti e dei direttori perché codificare tutto dentro quelli che sono schemi o schemi rigidi non ci servirebbe non sarebbe possibile e soprattutto schiaccierebbe tutto il dibattito politico dentro come dire dei numeri che alla fine non sono rappresentativi di quello che sta succedendo in più dobbiamo tener conto cosa che è stata sottolineata che viviamo un momento politico molto diverso da quello che abbiamo conosciuto negli anni precedenti perché appunto ci stanno sia dentro la maggioranza che dentro l'opposizione ci sono situazioni molto più sfaccettate molto più eterogene molto più complicate di come invece non fossero le due coalizioni come le avevamo conosciute negli anni passati d'altra parte come dicevo nell'introduzione basti pensare alla differenza di opposizione che fa Forza Italia rispetto al Movimento 5 Stelle quanto al Movimento 5 Stelle io l'ho già detto e sono stata anche attaccata da Beppe Grillo per averlo detto ma lo ridico durante un'iniziativa pubblica è molto naturalmente condizionante e anche negativo per noi direttori di telegiornali e per noi giornalisti non poter contare sulla partecipazione di esponenti politici del Movimento per esempio in una rubrica di approfondimento come noi facciamo regolarmente tutte le sere che è quella di Linea Notte dove noi oltretutto soprattutto in questa situazione politica cerchiamo di discutere di temi precisi quindi non so della riforma del lavoro della legge di stabilità visto che ormai quel dibattito tra maggioranza e opposizione come si è è stato concepito negli anni passati si è molto modificato e da qui naturalmente poi anche la crisi dell'informazione di cui è inutile che è naturalmente dei touch shot quello di cui avete sentito molto parlare in questo periodo quindi cerchiamo di occuparci di questioni concrete è chiaro che l'assenza del movimento di opposizione un movimento di opposizione importante come il Movimento 5 Stelle che siede in Parlamento ci penalizza molto perché naturalmente ci impedisce di sentire un punto di vista a cui siamo tutti interessati ma io penso che penalizzi molto anche voi nel senso che tutto sommato ci sono dei posti di dibattito che sono anche posti poi tutto sommato tranquilli perché si parla di due esponenti politici più un giornalista dove sarebbe utile e interessante per tutti sentire naturalmente anche la vostra opinione se no si rischia poi appunto anche se poi noi durante il telegiornale cerchiamo sempre di sentire il punto di vista del Movimento 5 Stelle però poi si rischia se no magari di rappresentarlo solo attraverso quelle che sono le bagarre di aula che abbiamo raccontato nei mesi passati se mi sono scordata qualcosa perché c'è qualcosa seguiamo con molta attenzione questo l'abbiamo detto non so se mi sono scordata qualcosa pluralismo io credo che il TG3 come dire come devo dire mi avete dato un po' atto tutti voglio però attribuirmi la bellezza di quello studio perché è vero che c'è la tecnologia però anzi non attribuirmi attribuire a tutto il TG3 perché su quello però come avete visto l'hanno cambiato tutti lo studio quindi se il nostro vi piace particolarmente credo che il TG3 ne debba essere molto orgoglioso perché ci ha lavorato tutta la redazione ma non solo naturalmente il TG3 anche tutti gli scenografi tutti i tecnici insomma quella è proprio posso dire che nel momento del rinnovamento dello studio e dell'avvio del processo di digitalizzazione che peraltro è andato in porto in tempi rapidi così come era stato previsto dal direttore generale e devo dare atto naturalmente a questa direzione di aver accelerato in modo importante quel processo di digitalizzazione cosa che è stata utile per tutti i telegiornali e che era peraltro indispensabile e voi non potevate immaginare le condizioni di arritratezza tecnologica in cui lavoravamo si rompeva sempre tutto non si poteva neanche aggiustare perché non esistevano neanche più pezzi di ricambio però quello è stato un momento appunto in cui ho rivisto la RAI degli anni passati in cui ci si è tutti mobilitati per dar vita poi a questo studio di cui siamo naturalmente molto soddisfatti perché oltre a essere così esteticamente piacevole prevede anche le telecamere che girano sui carrelli quindi anche dei metodi di ripresa che sono molto innovativi rispetto al passato quanto al pluralismo io insomma mi considero però soddisfatta di questa audizione perché con le critiche che inevitabilmente ci sono gli errori che tutti commettiamo però mi sembra che tutti abbiate anche sottolineato che il Tg3 insomma cerca di rappresentare tutti e soprattutto la cosa che ho ottenuto di più in questi anni in cui sono stata in cui sono in questi anni in cui sono stata e sono attualmente direttore è di cercare di differenziare il Tg3 dagli altri giornali cioè di dargli quello che credo sia molto importante una linea editoriale precisa che non è di identità politica ma che è di identità culturale che ci ha portato a scegliere di seguire delle questioni e di non seguirne altre per esempio noi seguiamo pochissima cronaca nera non facciamo quasi mai cronaca nera pochissima cronaca di quella tradizionale mentre seguiamo moltissimo quelle che sono tutte le questioni sociali tutte le vertenze lavorative e diamo voce davvero abbiamo dato a soggetti che non sono affatto rappresentati né in Parlamento né sindacalmente ma che regolarmente ci contattano quindi hanno un filo diretto con il nostro telegiornale proprio perché vogliono far sentire la loro opinione questa è una specificità nostra così come l'aver cercato di utilizzare un linguaggio anche politico diverso da quello degli altri a cui io insomma tengo molto e che rivendico in ogni situazione sia possibile rivendicarlo perché penso che poi sia stato quello che abbia caratterizzato il Tg3 in un momento in cui poi non è facile cercare di mandare in onda dei telegiornali che sono differenti gli uni dagli altri ci sono altre osservazioni approfondimenti Nesci un minuto grazie per la sua risposta ma sinceramente non la ritengo diciamo dello stesso tenore della mia domanda che era abbastanza articolata e tre punti velocissimi sulla sua risposta non è certificato da nessuna parte che questi talk show rappresentino e forniscono servizio pubblico ai cittadini anzi e sono il posto in cui in maniera più superficiale vengono condotte le discussioni servono soltanto a nostro avviso ad impressionare i cittadini e a non fornire alcuna reale informazione di secondo punto non è possibile non è possibile aspettare un mese per vedere riequilibrate le proprie posizioni e ricordandoci anche che il pluralismo il diritto alla competenza dell'informazione e tutti i principi che dicevo prima sono prima di tutto un diritto dell'utente quindi prima che un diritto dei vari partiti a rappresentare qualcuno o qualcosa ma è un diritto dei cittadini avere un certo tipo di servizio pubblico e dalla sua risposta mi par di capire che per vedere riequilibrate la posizione di un partito o di una coalizione politica bisogna aspettare la polemica interna del partito e questo è assolutamente indecente perché e vengo al terzo punto lei non può dire che siete costretti ad occuparvi del Movimento 5 Stelle quando fa bagarre in aula anche perché non ho mai detto questo l'ha detto poco fa non l'ha fatto detto la invito a questo punto sempre con rispetto ma senza alcun timore reverenziale perché non ci dovrebbe essere in questo caso a diciamo visionare tutta l'attività parlamentare di tutte le parti politiche perché non esistono solamente le bagarre in aula in aula i momenti di tensione all'interno dell'aula ma ci sono i nostri interventi ci sono le attività di commissione quindi se è vero che lei dice che a questo punto esistono solo i talk show per approfondire incominciamo ad approfondire anche all'interno dei DG dove noi partecipiamo e ci siamo seguendo anche oltre le attività parlamentari anche quelle di commissione perché il Parlamento è fatto anche di questo grazie allora io non ho affatto ah no finiamo un altro giro aerolo anche un minuto devo solo dire visto che lei ha detto appunto che date spazio a tutte le componenti lavorative anche quelle meno ufficiali visto che è stato molto pubblicizzato lo sciopero del 25 di CGL e Cislewil mentre domani invece quello dei sono CGL ah scusatemi ma sono talmente intricati che uno con l'altro ogni volta dicono me con tutti e tre CGL e poi mentre invece quello scusa Pelufo fammi finire ti prego di domani dei sindacati autonomi io sono stato contactato da OSB per c'erano degli squilibri sull'informazione ho colto la palla al bar visto che siete qua vi pregherei nella vostra indipendenza rispetto alla vostra indipendenza di dare anche rilievo alla manifestazione di domani grazie Renati prego sì questa è la commissione di vigilanza sulla RAI e io ne sono anche il vicepresidente voglio dichiarare formalmente di non condividere neanche una parola che ho sentito dalla rappresentante del 5 Stelle nel senso che da molti anni il servizio pubblico pagato dai cittadini compreso il sottoscritto offre a mio avviso uno straordinario lavoro qualitativo e professionale per tutti i telespettatori e i programmi di approfondimento del servizio pubblico sono tra i migliori d'Italia e anche della programmazione dei servizi pubblici televisivi forse la rappresentante del 5 Stelle ha confuso il telegiornale con i servizi parlamentari che giustamente vengono qui riprendono quello che succede e negli spazi propri dei servizi parlamentari spiegano quello che viene nelle commissioni bicamerali e le commissioni permanenti ma sono due cose completamente diverse grazie Peluffo prego ringrazio il presidente Lainati per le parole istituzionali che ha spese nelle quali mi ritrovo peraltro la commissaria Nesci avrà modo rileggendo il resoconto di rendersi conto che i suoi riferimenti e le parole del direttore Berlinguer sono completamente fuori luogo mi permetto una nota margine colpisce il presidente che il Movimento 5 Stelle che è entrato in questa aula dicendo di voler cambiare completamente la RAI adesso ha come unica preoccupazione quella di occupare la RAI innanzitutto i telegiornali non rispondendo invece agli inviti che vengono fatte per le trasmissioni di approfondimento e quindi contribuendo allo squilibrio che c'è nelle presenze delle trasmissioni di approfondimento è inaccettabile questo Peluffo è inaccettabile primo perché abbiamo rileggeti rileggeti i nostri confronto di giudicare le posizioni degli altri perché se hai intervenuto hai detto il tuo io intervengo e dico il mio non è che tu puoi giudicare se le posizioni degli altri sono ammissibili o meno uno alla volta con calma erora prego sono calmissimo non abbiamo lottizzato la RAI voi sì primo punto secondo punto da un anno e mezzo sono qua dentro e chiedo che la RAI venga liberata dalla politica come ho avuto modo di dire più volte quindi Peluffo non dire bugie ok? basta chiudo qua la seduta Rampelli prego Rampelli prego Rampelli prego Rampelli prego una gag benonda prego regolarmente questo Airola basta speriamo che uno dei due riesca a convincere l'altro Rampelli Rampelli vada avanti un minuto anche lei basta Rampelli prego mi ritengo parzialmente soddisfatto della risposta nel senso ci sono comunque degli elementi che mi lasciano inducono a riflessione vorrei magari ricordare in questo tentativo anche di rimettere un po' a registro il polarismo dell'informazione quindi il diritto di tutti ad avere il proprio spazio non di visibilità ma di informazione forse sarebbe opportuno anche cercare di capire entrando nel merito quanto possa essere legittimo ancorarsi esclusivamente o prevalentemente a una rappresentanza parlamentare posto che ci sono alcuni movimenti alcuni partiti che nascono da scissioni parlamentari e che hanno il doppio il triplo il quadrupo della presenza di chi invece ha avuto un mandato popolare esplicito come democrazia impone quindi anche questo aspetto magari nella regolamentazione dovrebbe secondo me essere meglio congegnato e questo potrebbe comunque andare a conforto anche di chi svolge un certo mestiere prego permettetemi solo una rapida risposta all'onorevole perché io non ho affatto detto che naturalmente l'informazione politica si manifesta o ha un senso solo nei talk show anche perché il nostro non è un talk show nel senso l'Indianotte io non lo considero un talk show è una trasmissione di approfondimento di un telegiornale che dura un'ora che tra l'altro come sapete ha molte cose dentro perché ha tutta una parte di politica estera poi invece ha una parte di notizie che riguardano la giornata una parte di rassegna stampa quindi è un approfondimento del telegiornale e non un talk show non ha niente a che vedere con il talk show io potrei leggere tutti i dati ma lei li conosce meno di me e meglio di me se il Movimento 5 Stelle è stato sempre rappresentato dal TG3 tranne appunto nel mese di settembre ma non è che bisogna aspettare il mese di ottobre per riequilibrare non è questa la questione questo non riguarda solo il Movimento 5 Stelle riguarda tutti come ho spiegato in quella relazione che ho fatto all'inizio che riguardava la par condicio il TG3 come tutti i telegiornali naturalmente si attiene anche a quelle che è l'attualità politica perché se no staremo qui naturalmente a far fare dichiarazioni è chiaro che ci sono dei mesi in cui risulteranno più rappresentate alcune forze e sotto rappresentate altre forze politiche e viceversa questo riguarda tutti ci sono stati dei momenti in cui è stata sotto rappresentata Forza Italia ci sono stati anche dei momenti in cui è stato sotto rappresentato il Partito Democratico perché soprattutto in una situazione come quella attuale in cui c'è una sovra rappresentazione del governo perché naturalmente il governo è al centro di molte iniziative come sapete quelle di cui ragioniamo e quindi spesso è molto presente nel telegiornale a questo spesso corrisponde invece una sotto rappresentazione del Partito Democratico ma perché questo è il dibattito politico attuale non è che me lo sto inventando io naturalmente noi riportiamo cerchiamo di riportare nel modo più corretto possibile quello che succede ma io non ho mai detto naturalmente che l'informazione politica si manifesta solo attraverso il Toshow anche perché io dirivo un telegiornale quindi mi darei pure la zappa sui piedi da sola dicendo che si manifesta solo attraverso il Toshow ma nelle edizioni delle 14 e 19 il Movimento 5 Stelle è stato sempre ben rappresentato il mio era un auspicio non era un cioè era un desiderio dire che mi farebbe piacere che a nostro approfondimento partecipasse ogni tanto visto che non si verificano mai partecipassero ogni tanto anche esponenti del Movimento 5 Stelle poi naturalmente la decisione sta a voi non certamente a me era un desiderio che ho manifestato pubblicamente basta era solo questo possiamo chiudere qui buon pomeriggio grazie 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 grazie